Nuovo colpo della Guardia Civile Spagnola contro l'ETA. L'operazione scattata martedì scorso ha portato a un nuovo arresto nelle ultime ore, il terzo. Si tratta di Lander Eceberria, fermato a Navarra. Sarebbe legato a Erreca, il comando sgominato martedì a Legorreta, nella regione di Ghipuzcoa, con l'arresto di due presunti militanti. Eceberria sarebbe stato il legame tra i due fratelli e il comando generale del gruppo separatista basco. Le perquisizioni intorno a Legorreta hanno portato anche alla scoperta del più grande deposito per la fabbricazione di esplosivi mai trovato in Spagna. L'ETA ha annunciato una tregua permanente il 10 gennaio e non commette attentati dall'agosto del 2009, ma secondo il ministro dell'interno Rubal Kaba, il gruppo terrorista non ha però abbandonato definitivamente la violenza.